Ciao, sono Arthur Newman. Sì, sono Arthur Newman. Sono Arthur Newman! Vedi quel furgone? Sono Arthur Newman. E io Michela. Un viaggio senza meta, questo cerco. Ti ho preso un pensierino. Grazie, Wallace. Come mi hai chiamato? Wallace Evry, no? Tuo padre è andato in campeggio cinque giorni fa e non è più tornato. Addio, sfigato. Dove vuoi andare? Nel mondo di Arthur Newman. Salve, sono Arthur Newman. Noi siamo Owen e Ludmilla. Owen. Lo sai, Mike, sei una fantastica imitatrice. Partono per la luna di miele. Mike, che fai? No, questo non va bene. Togliti subito quel vestito. Toglimelo tu. Sei bellissima. Conosci una certa Charlotte Fitzgerald. Tu potresti continuare ad essere Michela e io Arthur. Sono entrato in casa da altre. Ho messo i loro vestiti. Ho dormito nei loro retti. Potremmo avere la vita che vogliamo. Chi sei tu? È un gran mistero, vero? È un gran mistero vero. È un gran mistero vero. È un gran mistero vero? Grazie.